Tutto un anno dedicato alla preghiera, il quale maestra migliore potremmo avere dalla nostra Santa Madre, mettiamoci alla sua scuola, imperiamo da lei a vivere ogni giorno, ogni momento, ogni occupazione, con lo sguardo interiore rivolto a Gesù, gioie e dolore, soddisfazione e problemi. Tutto alla presenza e con la grazia di Gesù il Signore, tutto con gratitudine e speranza. Affiniamo il nuovo anno alla Madre di Dio, consacramole le nostre vite. Lei con tenerezza saprà dischiuderne la pienezza, perché ci condurrà a Gesù, e Gesù è la pienezza del tempo, di ogni tempo, del nostro tempo, del tempo di ognuno di noi. Infatti, come è stato scritto, non è stata la pienezza dei tempi a far sì che il Figlio di Dio fosse inviato, ma al contrario, l'invio del Figlio ha fatto scaturire la pienezza dei tempi. Fratelli e sorelle, sia quest'anno piena della consolazione del Signore, sia quest'anno colmo della tenerezza materna di Maria, la Santa Madre di Dio. Grazie per la visione!